La fotografia più bella che ho fatto in tutto l'anno è stata scattata con un iPhone 11 Pro. Questa cosa mi fa veramente imbestialire e nel corso del video di oggi andrò a raccontarvi come mai e a farvi vedere questa fantomatica foto e poi vedremo se siete d'accordo con me che è la mia foto migliore di tutto l'anno corrente. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e mi occupo di fotografia da tanti anni per mestiere, di foto ne faccio tante, però sono molto obiettivo nel dichiarare quando è venuta bene o quando è venuta male e la fotografia che vi farò vedere oggi è sicuramente venuta bene. Prima di proseguire invito tutti quelli che non l'avessero ancora fatto a iscriversi cliccando il bottone qui sotto, lasciate anche un like perché sicuramente entro la fine avrete visto qualcosa di molto molto carino. Cominciamo col dire che io non ero certo in giro disarmato, io avevo con me Canon EOS R con il 1435 sempre di Canon, però il problema è che questa macchina l'avevo lasciata in auto perché stavo andando a fare una sorta di sopralluogo, stavo per fare un lavoro per un cliente, si trattava nello specifico di fotografare delle installazioni, parliamo di fotografia industriale e quindi stavo camminando in un campo per andare a capire come impostare il lavoro e in quel preciso momento mi trovo davanti la scena perfetta, la scena che vi mostro adesso. Come potete vedere c'è voluta un po' di inventiva perché io ero in un campo quindi ho dovuto cercarmela questa pozzanghera e cercarmi la foglia più carina di tutta la pozzanghera e il risultato è stata questa immagine che secondo me è la più bella che ho scattato in tutto l'anno. E ora voi chiaramente direte vabbè ma non potevi tornare alla macchina recuperare la tua macchina fotografica e riscattare la fotografia? L'ho fatto ragazzi, l'ho fatto, però ci sono una serie di difficoltà di cui adesso vi vado a mettere a parte. Primo, io mi ero allontanato parecchio dalla macchina e quindi ora che sono tornato alla macchina a prendere quello che mi serviva e in questo caso non mi bastava la fotocamera, mi sarebbe servito anche un treppiede e altre cose che in quell'occasione non avevo portato perché per il lavoro che dovevo fare non servivano. Ora che sono tornato indietro a prendere la macchina le nuvole si erano spostate. Infatti io ho realizzato la fotografia anche con la fotocamera ma il risultato è stato almeno a mio parere meno soddisfacente. Ovviamente se parliamo di colori la fotocamera ha distrutto l'iPhone in una maniera devastante, lì non ci sono paragoni. Quello però dove ha vinto il telefono è stato il fatto di cogliere quel particolare attimo perché ce l'ho sempre in tasca e quindi ho potuto scattare quella particolare fotografia nel momento perfetto in cui le nuvole erano esattamente dove dovevano essere. Inoltre c'è una seconda e una terza difficoltà quando lavoriamo con la fotocamera. La prima difficoltà è che la fotocamera avendo un sensore più grande ha una profondità di campo più esigua. Tradotto per i comuni mortali. Con la fotocamera non si riesce nativamente semplicemente chiudendo il diaframma a mettere a fuoco una foglia che sta a 10 centimetri e un orizzonte che sta a 20 chilometri. Questa cosa col cellulare si riesce a farla perché ha un sensore più piccolo quindi profondità di campo maggiore. Con la fotocamera non si riesce a fare questa cosa quindi io avrei dovuto fare del bracketing. Avrei dovuto fare un focus bracketing fare una fotografia per la foglia, una fotografia per il prato, una fotografia per la strada, una fotografia per le nuvole. Non l'ho fatto perché stavo lavorando, ero comunque lì a fare altro e quindi non ne avevo il tempo. Con l'iPhone singolo scatto immagine portata a casa. Con la fotocamera no. Inoltre c'è una seconda difficoltà ovvero c'era un po' di foschia. Lo smartphone, l'iPhone in particolare, fa delle cose alle nostre immagini. Trasforma il cielo, tira fuori colori che non esistevano. E' un po' come se avesse dei filtri integrati che noi non vediamo ma lui in qualche modo capisce che scena stiamo fotografando e ci ricolora le cose e ha dato più colore a quel cielo. Più colore laddove invece la fotocamera fa quello che le diciamo noi ma di certo non si mette a inventare colori. Almeno in questo però ho potuto contare su un alleato prezioso. Ovvero questo qui è un filtro polarizzatore di KNF Concept. L'azienda me l'ha mandato affinché io ve ne parlassi. Quindi questo è volendo un video sponsorizzato in cui vi parlo anche di questo filtro. A che cosa serve un filtro polarizzatore? Ne abbiamo già parlato nel corso di video precedenti. In questo video parliamo proprio di che cosa possiamo fare con un filtro come questo. se noi lo andiamo ad aprire e lo guardiamo è un filtro che all'occhio si presenta come trasparente quindi non notiamo la differenza. Quello che fa però è che una volta montato sul frontale dei nostri obiettivi ha l'effetto di rimuovere gran parte dei riflessi dalle superfici riflettenti come acqua, specchi d'acqua e plastica. Non funziona sui metalli. Purtroppo non funziona sui metalli. Però se stiamo fotografando qualcosa che riflette come può essere un vetro, una vetrina, uno specchio d'acqua, un grattacielo. Possiamo andare a rimuovere gran parte dei riflessi su queste superfici che specchiano. In secondo luogo il filtro polarizzatore è fantastico per rimuovere la foschia. E in questo caso io l'ho utilizzato per realizzare le fotografie che ho fatto con la mia macchina. Fotografie di cui non sono contentissimo nel senso che la foto che ho fatto con iPhone secondo me è più riuscita. Le foto fatte con la fotocamera sono più belle, hanno più colore, hanno più risoluzione, sono globalmente hanno una pasta molto migliore. Però l'attimo vincente l'avevo ormai perso e con la macchina fotografica a mano lì di fretta senza treppiede non sono riuscito a fare il bracketing che avrei potuto fare se avessi avuto il tempo di mettere giù un treppiede. Quindi la foto perfetta con la fotocamera già comunque era sfumata perché le nuvole intanto se erano mosse e se ne erano andate. E quindi mi sono accontentato di rifarla giusto per farvela vedere, per farvi una comparazione tra i colori della fotocamera e i colori dell'iPhone. Il cielo che sono riuscito a tirare fuori non sarebbe stato possibile tirarlo fuori senza un filtro polarizzatore e per mia fortuna ne avevo uno con me in borsa perché stavo andando a fotografare cose industriali dove poteva essere necessario togliere riflessi da parti di plastica. Ora parlando nello specifico del filtro polarizzatore in questione di KNF Concept di cui vi lascio tutti i riferimenti in descrizione. Devo dire mi sono trovato molto bene. Secondo me è un filtro che funziona molto bene e ve lo faccio vedere in queste immagini. Quello che mi sono trovato spesso a riscontrare con altri filtri polarizzatori è la poca uniformità. Ovvero nel momento in cui ruoto il polarizzatore per togliere la foschia dal cielo, quello che succede è che vedo molto chiaramente il filtro dove sta lavorando. Lo ruoto e vedo che sta lavorando a sinistra, lo ruoto ancora e vedo che comincia a lavorare solo a destra. Però è difficile avere uniformità su tutto il fotogramma. Con questo filtro di KNF Concept devo dire ho trovato più uniformità, nel senso che comunque riuscivo a togliere la foschia da tutto il cielo. Quindi globalmente mi sono trovato meglio che su altri filtri che ho già provato. A questo punto ragazzi faccio una mezza digressione. Io non sono convinto che questa sia la foto migliore che ho fatto in tutto l'anno. Perché dovete sapere che la foto migliore che ho fatto in tutto l'anno secondo me è quest'altra. Questa è una foto molto tecnica, è una foto che mi è costata diverse ore di lavoro e mi sono divertito tantissimo ed è una foto fatta in studio con tutti degli accorgimenti. E qui secondo me si vede veramente la differenza tra una fotografia e una snapshot fatta in giro. Questa foto, questa bellissima foto della foglia con l'autunno eccetera eccetera, è un po' uno snapshot, nel senso che è una foto fatta lì per lì in giro. Io ne sono contentissimo, secondo me è una delle foto più belle che io abbia mai fatto, mi girano le scatole tantissimo che la foto più bella di tutto l'anno l'ho fatta con un iPhone, però tant'è e sono qui a parlarvene. Se io avessi avuto anche un treppiede e venti minuti di tempo avrei potuto tirar fuori qualcosa di fantastico con la fotocamera, però purtroppo la fotografia è anche questo. Ogni tanto vinci, ogni tanto perdi. Io oggi ho pareggiato, nel senso che la foto comunque l'ho fatta, non l'ho fatta come avrei voluto, potevo farla meglio. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, sia delle due foto, sia fatemi sapere anche se utilizzate correntemente filtri, vi piacciono i polarizzatori, li utilizzate, li usate mai nelle vostre creazioni e composizioni? Parliamone qui sotto nei commenti. Io vi ringrazio come sempre di aver passato un po' del vostro tempo con me e io, Canon e KNF Concept vi diamo appuntamento al prossimo video. Ciao!